Andrea Martino Revisore Andrea Martino Revisore Andrea Martino Revisore Andrea Martino Revisore Ondate di innovazione stanno cambiando la nostra società. La tecnologia si sta mangiando i mercati. Non so chi di voi, come me, lavora... vorrei fare un piccolo esperimento. Chi lavora nella finanza, chi lavora nelle banche, chi lavora nelle assicurazioni, nel commercio, chi ha un negozio, un punto vendita, lavora nel retail, lavora nella logistica, il nostro lavoro tra vent'anni non esisterà più. Tra vent'anni il nostro capo sarà un software, un bot, che collegato a sistemi di intelligenza artificiale prenderà delle decisioni sulla base del big data e dei social network. Quindi se pensiamo, insomma, negli ultimi anni la digitalizzazione di massa e internet hanno cambiato e stanno cambiando la nostra società. Però nuove ondate di innovazione stanno arrivando. Si chiamano blockchain, si chiamano stampa 3D, si chiamano fabbricazione digitale, sharing economy, la nuova urbanizzazione, la conquista dello spazio, l'ultra broadband da tutte le parti. Quindi se pensate che avete visto cose incredibili in questi 15 anni, beh, allora, lasciamoci le cinture perché sta arrivando una vera e propria tempesta e francamente noi non abbiamo ancora visto niente. Io ho avuto la fortuna di occuparmi per 25 anni di innovazione, di tecnologia, di start-up, di venture capital, di investimenti in società tecnologiche e nel 95 ebbi la fortuna di andare a lavorare in Olivetti, a Italia Online. Negli anni, nell'anno in cui nasceva il web, negli anni in cui internet era ancora una cosa piccola, era una cosa poco conosciuta, era in bianco e nero, la banda era poca, c'erano pochi utenti, però era un posto dove tutti i giorni succedeva qualcosa, dove tu la mattina andavi in ufficio, ti logavi, ti collegavi e qualcuno aveva messo dei pixel rettangolari, un rettangolo di pixel, il primo banner, questo qua, e aveva inventato la pubblicità online. e chi vedeva nascere questa cosa qua quel giorno, dietro vedeva la rivoluzione, la trasformazione che avevamo davanti nei media, nella comunicazione, nel marketing. Era nato il primo mass media multimediale interattivo dell'umanità. Poi un'altra mattina andavi in ufficio e su una pagina web qualcuno aveva messo una libreria dove c'erano un milione di libri e mandando via email il tuo numero di carta di credito potevi riceverlo. E dietro questa cosa vedevi come sarebbe cambiato il retail, la distribuzione, il commercio, la vendita, i negozi. Oggi a Milano, in molte città, il più grosso competitor di qualunque supermercato è Amazon Prime, dove compri e in un'ora ti arriva tutto. Un giorno ho scaricato il mio primo file mp3. Io da ragazzo facevo il musicista a Torino e improvvisamente cosa ci ho visto dietro questa cosa? La possibilità per milioni di musicisti, di artisti, di case discografiche di cambiare il proprio accesso al pubblico. Il fatto che questa cosa avrebbe cambiato la musica, l'industria musicale, le case discografiche. E questa cosa qua, in più, per me rappresentava la possibilità di mettere insieme due cose che mi appassionavano, la tecnologia, internet e la musica, e la possibilità di farci un'azienda. E fu quello il momento in cui feci il passaggio, diciamo, da manager a imprenditore, e così fondai la mia società, la mia start-up. Si chiamava Vitaminic, una piattaforma che consentisse a migliaia di artisti di tutto il mondo di distribuire, commercializzare e promuovere la propria musica. Fu quello il giorno in cui incontrai sulla mia strada il venture capital. Incontrai quello che oggi poi è diventato il mio lavoro, e incontrai in particolare questa persona, Serino Piol. Serino è stato un precursore del venture capital a livello mondiale, è stato uno di quelli che lo hanno inventato. In quegli anni lì, dal Silicon Valley, da Cupertino, c'era una piccola azienda software che si chiamava Apple, che mandava i suoi uomini a Ivrea per scoprire cosa stesse facendo l'Olivetti col venture capital. E lui racconta questo mestiere con una frase che è molto bella, molto diretta come lui è, molto esplicativa. Dice, guardi, dettori, io ho investito nella mia vita in 177 aziende tecnologiche. Ho sempre investito in PMI. Erano sempre tre ragazzi con un business plan in un garage. Non ho mai investito in aziende nane. Il venture capital cerca imprenditori che vogliono cambiare e trasformare il mondo. E ricordo in quegli anni che ero in Olivetti, un giorno alla macchinetta del caffè si è avvicinato un mio collega americano e mi dice, guarda Gianluca, mi licenzio, anzi, mi sono licenziato a Olivetti, vado a San Francisco a fare una start-up. E io, devo dirvelo, francamente in quel momento pensai, ma sei scemo? Cioè, stiamo qua, stiamo in Olivetti, e il millenone sta esplodendo internet con tutta questa cosa e tu vai a fare un'azienda con due amici a San Francisco. Poi un anno dopo mi manda un'email, mi dice, sai Gianluca, ti ricordo che ho fondato la start-up? Beh, se ti colleghi al sito del Nasdaq, tra due settimane ci quotiamo in borsa. E lì lo scemo mi senti io. E questa sensazione di sentirmi io quello sbagliato fu una cosa che caratterizzò molto di quegli anni. Chiedevo in giro ai miei amici, ma da voi in Germania succede questa stessa cosa in San Francisco, tu in Francia, come mai qua in Italia non succede? Quello che stiamo vedendo succedere è che gente come noi, colleghi, nella pausa del caffè, fanno delle aziende che cambiano il mondo. E qua, niente. All'inizio tendi a pensare, vabbè, ma queste robe succedono in America, queste robe non succedono in Italia, però poi alla fine essenzialmente tendi a pensare che quello sbagliato sei tu. Cioè che se sarà il mio, sono io che non sono capace di fare una roba così. Si vede che quello era più bravo. Mi sembrava normale, mi sembrava come me, ma forse è più bravo di me. E quindi tendenzialmente la sensazione era di questo senso di inadeguatezza che ci permeava. Poi anni dopo capì che in effetti non era mio il problema, ma che la ragione era che mancava un anello in questa catena. Mancava il venture capital, mancava quello che con 350 mila euro e il serino aveva consentito di trasformare un sogno su un tovagliolo, in una birreria con due amici, in un'azienda, che un po' nel suo piccolo ha cambiato il mondo. E così, quando sono uscito da quell'esperienza, ho deciso di partire per un viaggio. Ci siamo letteralmente comprati un camper con i miei soci e abbiamo cominciato a battere l'Italia in giro per i territori, nelle città, nelle università, nei co-working, per dimostrare a noi stessi una sioma molto semplice, che è il DNA degli innovatori e degli imprenditori è spalmato in maniera omogenea su tutti i territori, cioè che non c'è una ragione strutturale, genetica, tale per cui i nostri figli, mia figlia, non è in grado di fare la stessa cosa che fa un Mark Zuckerberg a San Francisco, che non sono loro il problema, che siamo noi il problema, che intorno non c'è quella stessa cosa. Ed è stato quello il momento in cui abbiamo cominciato a scoprire che questo mondo esiste anche in Italia, anche grazie a Internet. Queste ondate di innovazione scatenano i loro effetti in una scala, diciamo così, logaritmica, cioè quando l'onda è lontana, è una piccola increspatura di cui non ti rendi conto, ma poi quando a un certo punto ti rendi conto dell'onda che è vicina, è un muro di 30 metri che fondamentalmente ti lascia abbastanza atterrito. Per cui se tu 15 anni fa facevi il tassista e pensavi che tutta questa cosa della digitalizzazione a te non ti avrebbe spostato ad un millimetro, e non vedevi che poi nasceva Google Maps, arrivavano i telefonini con il broadband, arrivavano gli smartphone con le mappe, e praticamente succedevano tutte queste cose intorno a te, non te ne accorgevi che a un certo punto c'era un imprenditore che fondava una società che si chiama Uber, che cambiava completamente le regole del mercato dei taxi a livello mondiale. Perché se tu sei Hilton, sei leader al mondo degli alberghi, hai 80 mila stanze in 200 nazioni, i canali distributivi, il brand, le truppe cammellate, c'è un'increspatura lontana di tre ragazzini in Silicon Valley che stanno facendo un sito dove la gente può condividere le case. E quando l'onda si è avvicinata, e te ne sei reso conto, il problema è che questi hanno 8 milioni di stanze senza avere un albergo, e tu hai 80 mila stanze con tutte queste maldette infrastrutture e costi da gestire. E non essere te ne reso conto può essere un problema. E di fronte a queste onde, tutti noi normalmente abbiamo una roba un po' binaria, abbiamo un atteggiamento che può essere o vediamo il rischio, siamo atterriti di fronte a questo muro di 30 metri, il rischio di essere obsoleti, ci sentiamo ormai sorpassati, non siamo in grado di affrontarlo, il rischio di essere stromessi completamente dal mercato, oppure ci sono invece quelli che vedono l'opportunità di cavalcare questa onda che rimescola i mercati, di trovare uno spazio in questo muro di 30 metri e uscirne fuori vincitore, creare nuove aziende, inventare nuovi servizi e cambiare il mondo. e in questo viaggio con questo camper in giro per l'Italia ho avuto la possibilità di conoscere migliaia e migliaia di personaggi come questi qua, fondatori di una startup italiana che si chiama Meshhape, 17, 19 e 21 anni, che fondamentalmente è una generazione diversa, proprio in maniera radicale da noi, è una generazione che questa è gente, questi qua è gente che ha iniziato a scrivere software a nove anni, che quando arriva a vent'anni, in Silicon Valley questi li chiamano senior engineer, fanno i direttori tecnici di Facebook, e io ho avuto la possibilità di conoscere migliaia di ragazzi così, e normalmente in quegli anni, come loro, questa gente qua non trovava spazio in Italia, prendeva un aereo, andava dall'altra parte, e aveva successo come loro. Ma per fortuna, da un lato grazie a internet, che è uno strumento che livella tutto, che dà le stesse informazioni a tutti se le sai andare a prendere, questa cultura startup è arrivata anch'essa in Italia, e sono nati un intero movimento culturale, noi stimiamo 20-30 mila giovani, che in questo momento stanno facendo una startup tecnologica per conquistare quelli mercati delle onde che stanno arrivando. Gente come Vito Lomele, che ha fondato JobRapido, il più grosso sito di annunci per trovare lavoro al mondo. Da Milano, con 200 persone, ha conquistato il mondo, è stata acquisita la sua azienda dal Daily Mail. Come Davide Dattoli, che ha fondato il più grosso network di co-working in Europa. Come Ugo Parodi-Giusini, che 200 dipendenti da Palermo, con sedi a Roma, Milano, New York, Seoul, Londra, Tokyo, sta conquistando il mondo della distribuzione video online. Come i fondatori di Satispay, che stanno creando un sistema di pagamento mobile per combattere le carte di credito sfruttando l'innovazione dovuta alla nuova regolamentazione PSD2, che entra in vigore quest'anno in Europa. Come i fondatori di Sardex, per i quali sono stato io quello che ha messo quei 150 mila euro che ha consentito di uscire da... Loro praticamente avevano un ufficio a casa della nonna, nella stalla della nonna, e oggi hanno generato 200 milioni di euro di transazioni con una moneta alternativa che in Sardegna sta rigenerando l'economia locale. Ecco, io mi occupo di venture capital per questo, perché fondamentalmente penso che questo sia il momento di cominciare di nuovo a parlare di sviluppo, di competitività, di innovazione, di fare nuove aziende, di creare questi nuovi posti di lavoro. perché io penso che fondamentalmente ci sia un valore nei nostri territori, nei nostri giovani, nei nostri figli, perché penso che sia il momento di tornare ad investire nei nostri figli, perché sono loro che sono in grado di cavalcare queste onde tecnologiche, perché è il momento di tornare a investire nell'economia reale. Grazie. 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 Grazie.